Oggi qua all'Infopoint del Consorzio Porto Peschereccio abbiamo organizzato insieme alla Capitaneria, insieme all'Associazione Pesca Sportiva Onegliese in occasione della Giornata del Mare un incontro con due scolaresche di Imperia Oneglia. Ci teniamo particolarmente a queste giornate, a questi incontri perché aiutano a promuovere quello che è il rispetto dell'ambiente, quello che è la professione del pescatore e quello che poi è anche l'attività di pesca sportiva. Noi siamo assolutamente disponibili ad organizzare questi incontri con tutte quelle che sono le scolaresche imperiesi o le scolaresche interessate i pescatori sono ampiamente disponibili, sono settimane che questo Infopoint ospita numerose scolaresche ieri addirittura qua abbiamo ospitato, ci sono state delle audizioni anche per i pescatori perché nelle prossime settimane verrà girata una importante trasmissione televisiva Imperia Oneglia e diciamo che siamo altamente contenti che quello che è l'Infopoint si conferma il fulcro dell'attività portuale onegliese. Mi unisco bene alle parole di Lara Servetti, apparteniamo allo stesso bacino portuale, io sono il presidente dell'associazione sportiva nautico onegliese e l'istituzione di questa giornata del mare nelle scuole per l'11 aprile era stata istituita dal nuovo codice della nautica entrato in vigore il 13 febbraio e quindi abbiamo accolto con piacere questa organizzazione, quindi ci siamo autocoinvolti, abbiamo coinvolto la Capitaneria di Porto sempre disponibilissima nell'elargire le informazioni e soprattutto sulla sicurezza del mare. Niente, ci aspettiamo la presenza di queste scolaresche e speriamo che di queste manifestazioni se ne possano sempre fare in prosieguo. Noi siamo sempre disponibili non solo come pescatori dilettanti ma anche per promuovere l'amore del mare come dal nostro statuto sociale. Bisogna dire che oggi 11 aprile è la giornata del mare, è la prima giornata del mare istituita con una recente legge di modifica del codice della nautica, viene quindi data in qualche modo legittimità a quella che è la cultura diffusa del mare e oggi ci troviamo nella sede del consorzio dei pescatori alla presenza anche dell'associazione ASNO dei diportisti per celebrare insieme a quelli che sono gli eredi di questa cultura, che dovranno essere gli eredi e quindi tutelare le nostre risorse del mare, cioè gli alunni delle scuole primarie. È un giorno importante, un giorno importante in cui parleremo, si parlerà in generale dell'impegno delle capitanerie di porto, guardie costiere a tutela delle risorse del mare, di uno specchio di mare così importante quale è quello dell'imperiese dove convivono felicemente realtà produttive, realtà diportistiche in un delicato equilibrio che deve portare alla conservazione delle risorse che qui vivono e non solo risorse ittiche ma parliamo anche di mammiferi del santuario dei cetacei e quindi in questo delicato equilibrio noi cercheremo di far comprendere a questi giovani scolari quanto sia importante già pensare alla tutela di questo mondo.